Abbiamo proprio delle schermate che fanno una sintesi dei numeri di questa Cavese, che adesso Mario Marra dalla regia ci manda in onda, abbiamo parlato sinteticamente delle singole stagioni, complessivamente il progetto Cavese della Monica Laguida ha visto in 227 gare giocate 95 vittorie, 70 pareggi, 62 sconfitte, 346 punti, una media stagione di 49,4, una media partita di 1,5, 11 allenatori, 6 direttori sportivi e poi abbiamo l'altra schermata, quella del Palmares, che vede la Cavese aver vinto dunque complessivamente con della Monica, due campionati, serie D e serie C2, uno scudetto di Lettanti, 2002-2003, portato sul petto nella stagione successiva in C2, e una supercoppa di C2. Hai studiato bene, hai studiato. Ti dico anche una cosa Presidente, tu in questo momento sei il Presidente più vincente della storia della Cavese, perché i numeri dicono questo, il 43% delle vittorie in campionati di serie C1, di serie C2 e poi di serie D, portano a dire questo, ma non ti verrebbe voglia di diventare addirittura, tra virgolette, immortale? Cioè, portare questa squadra addirittura alla terza vittoria di campionato? È certo che vincere è sempre bello, noi dobbiamo stare però con i piedi per terra, nel senso che quest'anno abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene, dico stiamo perché io certamente forse sono quello che fa meno di tutti, però dobbiamo stare con i piedi per terra. Abbiamo un bel gruppo, possiamo, innanzitutto dobbiamo salvarci, oggi abbiamo 29 punti se non mi sbaglio. Hai studiato, hai studiato. Facciamo le 12 e ci salviamo, e poi se viene qualcosa in più, certamente se possiamo puntare ai playoff lo faremo sicuramente volentieri, però non diamo, non diamo, ecco, ci fa piacere perché abbiamo trovato un buon equilibrio e dobbiamo mantenerlo perché gli equilibri sono facilmente, facilmente, cambiabili. Cambiabili, esattamente. Tutto è mutevole. Ci dai un giudizio su questa passione del pubblico che stenta un po' a crescere, anche se dobbiamo notare, insomma, nelle ultime settimane dopo l'ultima vittoria dell'anno scorso, del 2008, quella di Pescara, avvasto con il Pescara, è cresciuta indubbiamente, sensibilmente, adesso si aspetta ovviamente di vederlo numericamente nelle prossime partite fino alla fine del girone di andata, ma che giudizio ti sei fatto di questo? Ti dirò un assist. Io sarei molto arrabbiato al tuo posto. Ma guarda, io sicuramente non sono molto soddisfatto della presenza del pubblico, questo è fuori discussione, però mi rendo anche conto che a tutti piacerebbe vincere e vincere continuamente. Quando si arriva all'apice, poi dobbiamo anche dire che noi l'anno scorso, al di là dei cambi degli allenatori, al di là dell'aspetto tecnico, abbiamo avuto anche un po' di fortuna dalla nostra parte, ironicamente detto, perché francamente abbiamo veramente stentato molto, siamo stati sempre un po' lì, 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 lì per andare e per agganciare i play-off, poi non ce l'abbiamo mai fatta, siamo stati un po' sfortunati. La nebbia di Sassuolo, la nebbia di Sassuolo credo che sia eloquente. Sì, emblematica, esattamente, da quegli ultimi 10 secondi con il Foggia in casa, gli ultimi 6 secondi con il Foggia in casa, poi non si è capito più niente. Speriamo che, come si dice, la fortuna poi giri e la sfortuna poi giri e quindi che ci ritorni un po' un momento di fortuna, un po' di fortuna in più. Parliamo un po' di, diciamo, di Cava anche a 360 gradi. Quest'anno, Antonio, cosa ti aspetti, cosa ti sta dando questa amministrazione comunale a te, più che a te come presidente, diciamo alla Cavese? E si stanno completando alcune cose, come anche il campo e via dicendo. Ecco, cosa ti aspetti in questo 2009 rispetto all'amministrazione comunale? Ma l'amministrazione comunale, devo dire la verità, ci ha dato una buona disponibilità, anche con la, non so come dire, la ricostruzione del campo appreggiato, che poi, prima o poi, dovrebbe, in erba sintetica, dovrebbe essere dato a noi per poter fare gli allenamenti. Perché sapete bene che per esigenze di tappeto noi evitiamo di calpestare lo stadio di Cava dei Tirreni. E quindi andiamo a Palma Campania, dove ci alleniamo regolarmente, evitando di andare sul nostro campo. Chiaramente, se riuscissimo ad avere maggiore spazio, è normale che sarebbe sicuramente molto più economico per noi e più vantaggioso per lo stress che non porterebbe ai nostri calciatori. E poi, anche da un punto di vista, invece, economico-sociale, il 2009 sarà il fondamentale per rapporto, anche, diciamo così, della monica amministrazione comunale, nel senso che ci sarà la variante complessiva dell'amministrazione comunale rispetto al piano economico-sociale della città, dove ci dovrebbe rientrare, anche nel mese di marzo, più o meno si dovrebbe vociferare, il progetto sullo stabilimento ex di Mauro. Ecco, dove, tra l'altro, c'è un investimento abbastanza particolare. Siamo parlando di un'altra cosa. Sì, no, questo è vero, però questo per dire che comunque il legame della monica città di Cava dei Tirreni è ormai, è sempre stato solidissimo, lo ha ancora di più ormai. E la famiglia, la famiglia d'Andrea, che praticamente è presente a Cava con la propria attività e che da Cava dei Tirreni poi, diciamo, si è un po' allargata a livello regionale. E Cava dei Tirreni, poter ritornare a Cava dei Tirreni, ecco, ho visto, vedo. Ecco, queste sono le schermate, questo si riferisce un po' all'azienda Cava Market. Azienda e gruppo, abbiamo prima la schermata, questa è l'azienda Cava Market, il fonte l'abbiamo specificato, bilancio 2007 della Cava Market S.P.A. Ah, quindi ho capito. E poi abbiamo il gruppo Cava Market, quindi dati pubblici, abbiamo soltanto spogliato un po' di pagine che hai fornito tu. Forse, ecco, questo per dire un po' a Cava dei Tirreni in generale, all'amministrazione anche, ma a Cava dei Tirreni in generale, che in realtà la famiglia d'Andrea, poi nella Monica, è una realtà importantissima, legatissima al territorio, che forse non tutti ancora hanno compreso quale valenza anche nazionale ha un gruppo del genere. Su questo non c'è dubbio che siamo legati al nostro territorio, perché anche la stessa Cavese chiaramente lo fa desumere, quindi siamo legati al territorio, lo facciamo volentieri, è chiaro che se avessimo maggiore supporto anche da altre imprese, ci farebbe piacere, perché più si è insieme, più si è gruppo, parlando di gruppo, più si riesce a fare. Sempre però mantenendo il nostro modo di fare, senza eccedere, sempre stando con i piedi per terra, perché poi è quello che ci fa meglio assaporare le cose.